buongiorno a tutti oggi andremo a vedere come filtrare le strategie per individuare facilmente quelle più adatte al nostro profilo di investimento ai nostri obiettivi finanziari siamo nella piattaforma ctrader web di topfx all'interno della sezione copy vediamo che ci sono 982 strategie in questo momento 982 strategie come potete immaginare è un po' difficile analizzarle e valutarle tutte dunque cerchiamo di utilizzare i filtri disponibili innanzitutto tipo di conto volete vedere vogliamo vedere strategie reali o demo o entrambi io consiglio sempre di vedere solo strategie reali solo strategie reali perché avete la possibilità di copiarle anche in demo però una strategia reale se poi vi piace potete investire denaro reale quindi continuare la copia col vostro conto reale mentre una strategia in demo ovviamente non potrete mai copiarla con un conto reale quindi secondo me è meglio qui stabilire tipo di conto reale roi ritorno sull'investimento cui abbiamo parecchie scelte qualsiasi quindi anche negative positive cioè superiore al 0 superiore al 5 al 10 al 15 al 25 al 50 io qui metto superiore allo 0 cioè strategie in positivo poi successivo filtro abbiamo l'orario orario cosa si intende il periodo per il quale questi filtri sono stabiliti io qui lascio tutto cosa significa abbinando questi tre criteri che ho deciso di selezionare di filtrare strategie reali in positivo da sempre cioè se una strategia ha un anno in quest'anno ha fatto almeno lo 0,1 per cento complessivamente quindi in positivo nell'arco complessivo di tempo che esiste ora dalle 982 strategie che avevamo adesso ne abbiamo 477 quindi già la scelta diventa più semplice però è ancora complicato analizzare 477 strategie quindi utilizzerò anche la possibilità di più filtri che vedete qui clicco su più filtri posso scegliere durata della strategia c'è una strategia che abbia qualunque durata un giorno un anno 10 anni oppure selezionare un periodo ad esempio più di una settimana più di un mese più di tre mesi sei mesi un anno qui io vi consiglio di lasciare qualsiasi e il motivo è il seguente se voi stabilite ad esempio strategie superiori a tre o sei mesi che è importante che una strategia prima di copiarla abbia un minimo di storico in sé però se un fornitore che ha ad esempio un anno di storico nel suo conto strada da un anno e decide oggi di diventare fornitore la data di creazione della strategia sarà oggi quindi voi scegliendo ad esempio sei mesi di durata non la vedrete quella strategia perché il sistema legge che è stata creata oggi se però voi andate all'interno della strategia e cliccate sulla strategia e vedete da quando è attiva vedrete che ha tantissimo storico quindi è un peccato perdersi tali strategie è meglio analizzarle attentamente quindi io qui lascio la scelta a qualsiasi ora i costi sui costi io sconsiglio di copiare le strategie che applicano commissione di gestione e tariffa sul volume preferisco le strategie che applicano solo la commissione di performance ovvero la percentuale sugli utili modello win win cioè se il fornitore guadagna io guadagno di conseguenza pago e gli riconosco una percentuale dei miei guadagni per ringraziarlo se vogliamo del suo lavoro svolto quindi l'unica fee che io accetto di pagare che io desidero pagare è la commissione di performance di conseguenza dico che le strategie le voglio filtrare che che voglio filtrare devono avere un minimo di zero commissione di gestione e un massimo di zero non deve esserci la commissione di gestione commissione di performance lascio così cioè dallo 0 al 50 poi ovviamente farò anche altre valutazioni tariffa sul volume stesso discorso della commissione di gestione non desidero pagare quindi da un minimo di zero a un massimo di zero ora il numero di copiatori che attualmente copia una strategia che desidero filtrare non mi interessa quindi lascio da 0 a 500 a oltre 500 il capitale in copiatura reale non mi interessa sono dati che valuterò sicuramente hanno un impatto sulla mia scelta ma non sono un motivo per il quale io voglio escludere una strategia a priori dunque lascio da 0 a oltre un milione di capitale in copia capitale in copia intende si ovviamente capitale della gente che li coppia quindi applico ora le mie scelte vediamo che attualmente ero 477 strategie applicando questi criteri vado 87 strategie ora già la mia scelta è molto più snella se vogliamo che ero partito da 980 e passa strategie ora solo più ha si aggiornato ulteriormente il dato nella 360 ok meglio così meglio meglio avere più scelta quindi ora 360 strategie disponibili con i criteri ora non resta che analizzarli attentamente come potete analizzare le strategie potete analizzarle avviando la copia con il vostro conto demo senza rischi dunque copiarle potete anche cliccare su ciascuna strategia analizzarla in dettaglio e se vi piace vi convince potete anche aggiungerla ai preferiti per aggiungerla ai preferiti andate accanto al nome della strategia cliccate la stellina e la troverete tra il vostro elenco di strategie preferite se un giorno cambiata idea e questa strategia non è più di vostra di vostro gradimento potete ricliccare la stellina e viene tolta dai vostri preferiti vi ringrazio per la vostra attenzione buona giornata ciao